La dottoressa Chiara Comastri ha perfezionato un metodo per risolvere un problema che affligge molte persone, la balbuzia. Il suo metodo si chiama di psicodizione. In cosa consiste? Allora, psicodizione si basa su due aspetti fondamentali. Il primo è un buon controllo sul suono, perché la persona che tende a balbettare quando sotto emozione di solito tende a non avere assolutamente controllo sulle lettere che emette, che siano vocali o consonanti. Il secondo aspetto che andiamo invece a lavorare è l'emozione, nel senso che noi amiamo tantissimo a usare l'ansia a nostro vantaggio, e quindi la forza che di solito ci schiaccia, ci sentiamo trattenere dentro e quindi che in qualche modo ci blocca poi nella comunicazione, possiamo imparare a usarla come una benzina per essere ancora più efficaci. Si tratta di un problema psicologico, lei è una psicologa, infatti non è un problema linguistico o di conformazione del cavo orale, è proprio un problema emotivo, se così possiamo dire. Esattamente sì, spesso si sente dire che la balbuzia sia un problema di linguaggio, in realtà non è assolutamente un problema di linguaggio, ma un problema emotivo, giustamente come lei ha detto, mal gestito che in qualche modo si ripercuote sul linguaggio, quindi quello che le persone sentono dall'esterno è un linguaggio spesso tentennante, oppure con l'uso di sinonimi, con fatiche anche fisiche o con sforzo anche di respirazione, in realtà tutto parte sempre un attimo prima, cioè la persona che tende a balbettare è una persona che solitamente parla benissimo, tranne quando è emozionata, quando ha fretta, quando ha della gente che lo guarda, quando ha paura del giudizio degli altri, quando c'è un imprevisto, e quindi ci sono questi momenti in cui la persona percepisce internamente che si potrebbe inceppare, ci sarà una lettera, una consonante, una vocale, una parola che gli sarà difficile dire, e quindi quel momento, che è una percezione interna di cui l'ascoltatore non si rende conto, è la balbuzie. Tutto quello che ne consegue dopo è il tentativo stesso della persona che cerca di risolversi il problema, e quindi la disfluenza che si percepisce, lo stop, la pausa, lo sforzo fisico in ultima battuta che si sente, è il tentativo della persona di liberarsi di questo inceppo interno a sé che lui percepisce. Bisogna ricostruire la fiducia in se stessi delle persone? Assolutamente sì, ma noi lavoriamo sulla fiducia attraverso le azioni che loro concretamente possono effettivamente conquistarsi. Noi andiamo a dare strumenti alle persone perché loro, grazie ai risultati che otterranno in presenza di emozione, ecco che inizieranno a costruire loro stessi la loro autostima, e quindi è proprio qualcosa che va molto più in profondità rispetto a chi ti dice semplicemente guarda come sei bravo, non è il nostro stile. Quante persone sono affette da balbuzie? È un problema comune oppure è un problema raro? È molto più comune di quel che si pensi, nel senso che anni fa, fino a 15-20 anni fa, si pensava fosse l'1% della popolazione a soffrire di balbuzie, oggi si dice addirittura il 3 o il 4, quindi sicuramente se noi guardiamo per la strada 100 persone, almeno 4 potrebbero essere balbuzienti, quindi è abbastanza radicato. Il problema è che spesso la persona che tende a balbettare è una persona che camuffa tantissimo, che maschera tantissimo i propri inceppi, e quindi spesso e volentieri è una persona che magari semplicemente facendo in questo modo camuffa, e quindi la persona che ascolta non si rende conto che lei è balbuziente, ma quei secondi di pausa, quei secondi di tempo che io uso per far finti di dimenticarmi la parola, ok, in realtà è balbuzia, e quindi la persona balbuziente spesso è più frequente di quel che si pensi incontrarla, insomma. C'è una persona tipo che può essere affetta da balbuzie, oppure è un problema che colpisce indistintamente maschi e femmine, giovani e anziani? Abbastanza indistintamente, tempo fa si diceva che c'era una percentuale molto più alta nei maschi, di una percentuale di 3 a 1, in realtà ultimamente essendo a contatto con tantissimi bambini sotto i 6 anni, la percentuale a livello di sensazione si sta abbastanza equiparando, e quindi non c'è una persona particolare che è affetta da balbuzie, sicuramente la fretta di oggi, sicuramente le pressioni sociali, culturali, insomma tantissime cose che possono effettivamente disturbare da questo punto di vista il bimbo nelle prime fasi, e poi inizia a mettere delle considerazioni sul fatto che è difficile comunicare per lui, no? e questo produce sicuramente l'arrivo piano piano di quella che è la balbuzie. Qual è l'età giusta per pensare di potersi curare, per iniziare un percorso di cura? Allora, noi consigliamo il prima possibile, nel senso che noi abbiamo due tipi di strategie, dai 6 anni ai 70-80 anni, un tipo di strategia che è il percorso di due settimane che noi facciamo proprio con l'approccio psicodizione, oppure dai meno di 6 anni. Allora, con i meno di 6 anni, cioè i bimbi che possono essere ancora nella fascia dell'età evolutiva e quindi la balbuzia può essere fisiologica, un momento anche altalenante che può anche andarsene così come è arrivato, noi facciamo un intervento unico con i genitori in cui in un'ora e mezzo diamo strumenti operativi per lavorare in casa con dei giochi che si possano utilizzare col bimbo senza che lui si accorghi di venire corretto, perché nel momento in cui il bimbo si accorge di venire corretto ecco che si innesca la consapevolezza e la consapevolezza porta a balbuzie. Invece dai 6 anni in su, quindi il bimbo che sappia almeno leggere, scrivere, abbia dimistichezza con le lettere e quant'altro, ha bisogno già lui stesso di strumenti per poter essere molto più forte nella sua comunicazione e quindi da lì iniziamo proprio un percorso di due settimane che in realtà è molto divertente, sono due ore e mezzo al giorno in modo intensivo, però è qualcosa che rende il bambino molto molto abile a comunicare bene e quindi la cosa diventa divertente perché può già iniziare ad andare a scuola a fare delle cose, a leggere davanti alla classe con successo e quindi questo aumenta sicuramente l'autostima quanto prima e quindi evita che si carichino delle situazioni che possono poi, come dire, trasformarli in parte anche il carattere, perché il brutto della balbuzia è che tende in qualche modo a farti essere una persona che non sei, magari tu sei una persona di tuo, socievole, con la voglia di comunicare e a forza di aver paura di incepparti e quindi aver paura di cosa possono pensare gli altri, in realtà tendi a diventare timido, ma non sei timido e che inizia ad avere un comportamento che in qualche modo ti fa ritirare, ti fa evitare, ti fa delegare le cose che devi fare e questa cosa piano piano aumenta e ti fa chiudere, potrebbe farti chiudere, diciamo così. Finora abbiamo parlato molto di bambini ma questo metodo può essere applicato anche agli adulti? Sì, assolutamente sì, ci sono dei ragazzi, adulti, speaker radiofonici che dicono finalmente posso io dire le cose senza bisogno che gli altri legano le cose che io stesso scrivo, no, ci sono veramente persone che hanno voglia di diventare più competenti, persone che magari si sono già costruite una strada, hanno avuto successo nella vita, ma hanno ancora quelle situazioni in cui si sentono in difficoltà, tipo manager piuttosto che, e dice quando ho la riunione davanti a tutte le varie persone, lì ho ancora un po' di difficoltà o non riesco sempre a esprimere il concetto che voglio con la lucidità che voglio che arrivi e quindi la comunicazione può comunque potenziarsi anche in quelle situazioni, insomma. Il suo metodo è stato studiato anche sulla base di un'esperienza personale, perché possiamo dirlo, lei stessa balbettava. Sì, io ho iniziato a balbettare da quando avevo tre anni, non si è capito la causa, quindi semplicemente suppongo fosse balbuzia evolutiva, però poi sono iniziate a esserci le considerazioni che io ho messo sulla mia difficoltà a comunicare, quindi sono entrata nell'ambito balbuzia, la definizione che noi diamo di balbuzia è molto semplice, sapere esattamente quello che si vuole dire e sapere altrettanto esattamente che ci sarà un suono, una parola che sarà difficile dire. E quindi questa è una definizione molto semplice, ma che dà proprio il senso di cosa sia il mondo interno della balbuzia. E io fino ai 18-20 anni ho combattuto con queste difficoltà, seppur era una persona comunque spigliata, insomma, che cercava di essere sempre attiva con un sacco di amici, brava a scuola, però c'erano proprio delle situazioni in cui avevo grosse difficoltà e avevo già iniziato a limitarmi, nel senso che avevo già pensato di andare a fare l'insegnante di ginnastica invece che la psicologa, quelle piccole e grandi cose che in realtà ti influenzano. Invece potersi liberare nella comunicazione, poter aiutare altri a fare lo stesso percorso, anzi ancora più veloce di quello che tu stesso hai fatto, sicuramente è di grande soddisfazione, sì. L'importante è far passare il messaggio che di balbuzia si può guarire e con questo metodo della psicodizione è più o meno quanto tempo ci vuole. È molto individuale, nel senso che il percorso dura due settimane in cui noi insegniamo tutti i giorni, eccetera, i ragazzi già dopo tre, quattro giorni, sette giorni iniziano ad avere dei successi molto grandi, iniziano ad affrontare situazioni che prima non affrontavano assolutamente con successo. Però io specifico sempre che non è pensabile che in due settimane scompaia l'ansia dalla loro vita, no. Se ho avuto per vent'anni paura a chiedere un caffè, non è che adesso in dodici giorni io entro in un bar e non mi sento più preoccupato, assolutamente no. Ma quello che succede è che io entrerò al bar con la stessa paura e preoccupazione di quella che ho di caffè di prima, però adesso ho due strumenti per giocarmela. So come manovrare i miei suoni in modo controllato, so come gustarmi l'emozione a mio vantaggio e quindi malgrado la paura dirò vorrei un caffè, ben detto, sapendo come l'ho causato io e quindi a forza di, malgrado l'ansia, parlare bene, ecco che questo innesca effettivamente è la spirale virtuosa, positiva e quindi le persone nel tempo poi aumentano quelle che sono le loro abilità.